Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Colored Vintage Tappeti. Questi colorati tappeti vintage sono realizzati usando tappeti turchi di almeno 20-50 anni di età. Ogni tappeto viene attentamente selezionato e sottoposto a un esclusivo processo di neutralizzazione del colore prima di essere tinto in un nuovo, intrigante colore. Il risultato è un mix di tappeti dal tradizionale design turco, fusi assieme in uno stile retro-contemporaneo. Lavorazione, Knoted Beyond. Spessore circa. 7 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.